Queste piantre raccontano praticamente la storia di Arezzo da circa, almeno documentata, almeno da 2000 anni a questa parte. Continua a sorprendere la chiesa di San Donato in Cremona, uno degli edifici di culto più importanti dell'Arezzo alto medievale, riemersa nel corso delle opere di restauro e recupero che hanno coinvolto la fortezza Medicea. Sono infatti ricominciati questa settimana gli scavi che la riguardano e già emergono elementi di interesse. Le ultime novità riguardano la presenza di almeno due strutture, una delle quali ancora completamente da indagare, quindi sulla quale non ci possiamo pronunciare, l'altra è una struttura che è un allineamento esattamente nord-sud e che è correlata con le canalette di scolo che avevamo identificato nella campagna di scavo precedente. È previsto una campagna ulteriore di studio dei reperti. La cosa importante è che a pochi centimetri, circa una cinquantina, 60 centimetri dalla roccia, dallo strato vergine, iniziano già le prime frequentazioni e sono frequentazioni antiche. Gli scavi proseguono grazie ad un rifinanziamento dell'amministrazione comunale di 123 mila euro. Ci sono materiali costruttivi molto diversi, si va dall'arenaria al travertino, al granito, al calcare, quindi c'è una grande cura. Le murature sono di grande pregio, quindi fatte effettivamente per un qualche cosa di grande valore. Aspettiamo gli esiti di quest'ulteriore fase di scavo con grande curiosità.